Cosa è successo tra Enrico Montesano e Selvaggia Lucarelli? Come ben saprete, Enrico Montesano sta partecipando al programma Ballando con le stelle, di cui Selvaggia Lucarelli è uno dei giudici. Durante le prove dell'ultima puntata, Enrico Montesano ha indossato una maglietta con lo stemma del battaglione X Mas, battaglione di Salenti è già ai tempi della Prima Guerra Mondiale, ma che durante la Seconda Guerra Mondiale ha combattuto dalla parte sbagliata, se così si può dire. E perciò le urmaggi sono andate in onda in prima serata tutto a posto. Un paio di giorni dopo Selvaggia Lucarelli tira fuori i fotogrammi in cui si distingue il simbolo del battaglione, quindi accusando Enrico Montesano di fascismo. La RAI immediatamente esclude Enrico Montesano dal programma, che ora si sta tutelando tramite i suoi delegali. E questo perché succede? Perché la Lucarelli ha fatto una bella infamata nei confronti di Montesano, che va a rancore nei suoi confronti già dai tempi della pandemia perché si beccavano sui social, e poi si definisce giornalista che dà le notizie quando lei giornalista non è.